METERASTRIA 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 Signore e signori, benvenuti in questo episodio speciale di Halloween sulla Tech It Classic. Come potete vedere dietro di me c'è già una bella zucca, molto cattiva anche, non riesco a rimettere niente. Ok, cosa dobbiamo fare oggi? Voi direte, eh vabbè, ma che fai? Hai già fatto la zucca? Come vorresti andare avanti? Eh no, perché la zucca in realtà è il lato più semplice e anche più noioso di tutto il lavoro. Quindi, adesso vi ho un'altra modellatina così perché mi piace una zucca che sia similteschio, perché l'ho resa similteschio, non è male. Detto questo, che cosa dobbiamo fare in questa puntata? Semplicemente siamo nel mondo della Tech It, come potete vedere ho tutti i waypoint, lì sotto a sinistra nella mappa c'è il rifugio, che ho, diciamo più o meno lì, diciamo l'accampamento nel bosco, e ho fatto appunto questa zucca come se si stesse avvicinando alla nostra base. Quindi l'ho fatta ad una certa distanza, non troppo lontano, non troppo vicino, e l'ho fatta appunto rivolta verso la nostra base, che da quel lato intenta ad avvicinarsi alla nostra base, ma ovviamente non sarà da sola, sarà insieme ad un esercito. Che adesso andremo a fare? Ho portato un pochino tutto quello che serviva, mi ero portato queste cose qua, perché adesso vi faccio vedere, poi il resto lo faccio io come al solito, mi dovevo fare due red lumar, perché mi devo fare due red lumar? Per il semplice fatto che devo fare gli occhi della zucca, e voglio che siano due occhi abbastanza paurosi. Eccole qua, le red lumar, ok, devo andare a cambiare questo colore, che da verde diventerà nero, eccomi qua, ok, quindi facciamo così, un bel nero scuro, vabbè, e qui magari ci metteremo le lampade, ah ho portato quelle bianche, ridammelo un attimo, ci mettiamo le lampade rosse, ovviamente, con gli occhi pieni di sangue, eccola qua, andiamo a fare anche la seconda e vediamo come viene. Beh, devo dire che fa abbastanza paura, beh, onestamente, devo dire che fa abbastanza paura. Dunque, adesso quello che dobbiamo fare è mettere, ovviamente, l'esercito, qui nelle vicinanze, e vedere un po' se riusciamo a dare quel tocco di paurosità a tutto. Signori, allora, sono andato a prendere il necessario per continuare la nostra costruzione, che sostanzialmente è un esercito che si sta avvicinando, come ho già detto, alla nostra base, e prima però non avevate visto l'esercito, adesso ve lo faccio vedere, tra l'altro è un esercito abbastanza sanguinario, perché ha rilasciato dietro di sé una ascia di sangue, motivo per il quale non è niente di buono. Innanzitutto potete già intravederlo dalla mappa, come potete vedere lì a destra, e l'altro problema è che questa, diciamo, questo Master of Pumpkin continua a rigenerarsi continuamente, perché dove si fermano? Pianta i seni, e quindi è un bel problemozzo. Adesso vi faccio vedere, innanzitutto, colpo d'occhio, mamma mia. E questo è l'esercito, come potete vedere ci sono delle gecko lantern e delle lanterne, e qui ho messo dei semi. Aspettate che sento passi, un po' bagatello questo dammio, ok. Adesso io voglio farli crescere, ho portato del bombino apposta, ecco qua. Le faccio crescere tutte proprio per dare l'impressione, perché, cioè, più che altro voglio che facciano subito il frutto, diciamo, quindi la zucca, che è quello che mi interessa di più. Come potete vedere qui ci sono degli alberi rotti, degli alberi a metà, proprio perché sono passati da questo lato e hanno fatto un bel po' di danni. Ovviamente non mi sono dilungato troppo nella costruzione, facciamo anche questi volendo. Ne possiamo lasciare anche uno più piccolo, non è un problema. Facciamo così, facciamo così, sono messi molto a casaccio, non badate. E l'idea è quella che non appena nasce uno, non appena è pronta una fila, la fila va avanti e quindi mano a mano si avvicinano sempre di più alla nostra base. Questi sono dei training dammi che non sono altro che, secondo me, i luogotenenti della zucca gigante, che come potete vedere ha messo le radici e adesso sta iniziando a procreare altre zucchine più piccole, altre zucche più piccole in questo caso. Poi avevo portato anche un po' di queste robe qui perché volevo mettere, ovviamente, un po' di desolazione. Quindi dobbiamo togliere tutte queste robe. Solo che l'unico problema è difficile toglierle tutte. Però, una buona parte le possiamo togliere. Possiamo piazzare un po' di... Eh, qua non li... Ah, forse questi vogliono una sabbia per essere piazzati. Che peccato. Non ho sabbia tra l'altro addosso, quindi... Vabbè. Allora noi che facciamo? Facciamo così. Un po' qua, un po' là. Andiamo a metterci sabbia e ghiaia. Pietrisco e ghiaia. Allora, i problemi iniziano a farsi molto importanti perché innanzitutto ho scoperto che dentro questa zucca c'è un cuore, un cuore pulsante, che credo sia la cosa più difficile da distruggere, diciamo, o meglio, l'unica cosa da distruggere per potersi salvare da questa zucca qui. Per il resto, il tempo di una clip e l'altra, purtroppo, questi si sono letteralmente moltiplicati, come potete vedere. Tra l'altro c'è anche un enderman, hanno fatto qualche danno qui, qualche danno qui. E questo è lo speciale di Halloween con la luna che sta salendo. Io vi ringrazio, signori, per essere rimasti qui in mia compagnia. Vi invito ad iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, lasciare un mi piace, un commento. E vi ricordo di divertirvi questa sera perché è una serata, insomma, dove bisognerebbe divertirsi anche. Quindi, detto questo, signori, grazie mille per essere rimasti in mia compagnia. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao! Ciao!